Il quadro epidemiologico mostra segnali di rallentamento nella crescita e nella diffusione del Covid. Il numero di persone positive contagiate in questa settimana credo che sia, anche se non di molto, inferiore a quella della settimana precedente. Quindi questo ci indica come è già avvenuto in altre nazioni dove la variante Omicron è arrivata prima, che può cominciare, potrebbe essere arrivato il momento di una discesa che speriamo rapida quanto la fiammata che nel giro di pochi giorni ha portato da poche centinaia a diverse migliaia i contagiati positivi giornalieri. Quindi da questo punto di vista c'è un segnale di ottimismo. Il cambio di colore. Non cambia tantissimo le regole perché già il Super Green Pass e le altre discipline avevano introdotto restrizioni particolari. Quindi registro il fatto che da settimane ormai le regioni segnalano al governo che questa classificazione, questa metodologia è superata dai fatti. Però sono settimane che il governo continua a cincischiare, a fare riunioni, a riunire tavoli, a consultare e quindi le richieste che erano state fatte dalle regioni ancora non sono state metabolizzate. Quindi non so se questo avverrà nei prossimi giorni. Tra queste richieste vi era anche quella di scomputare dal calcolo percentuale. Noi superiamo in area medica praticamente dell'1-2% la soglia che fa entrare quindi in area arancione. Abbiamo magari una percentuale importante di persone ricoverate in area medica che non sono entrate in ospedale per colpa del Covid ma sono state trovate positive al tampone di controllo dopo che in ospedale ci erano andate per fare altro tipo di operazioni. Questo è uno dei temi su cui stiamo discutendo con il governo. Se venisse accolta ad esempio questa misura che chiedono tutte le regioni da nord a sud e da destra a sinistra noi oggi non avremmo superato i parametri per la zona arancione. Quindi dispiace che il governo ci metta mesi ad affrontare un tema quando purtroppo la velocità con cui si modifica anche il quadro della pandemia impone invece velocità nelle decisioni che siano più chiare e più tempestive.